Luciano Ralli corre alla poltrona di primo cittadino di Arezzo. Il nome del candidato del centro-sinistra era già infatti noto da giorni, ma mancava ancora l'ufficialità formale, arrivata adesso dopo il via libera all'unanimità dell'Assemblea Comunale del Partito Democratico in seduta telematica a causa emergenza coronavirus. A sostenerlo un'ampia coalizione che va dal PD a Italia Viva, dal Partito Socialista a Più Europa, da Arezzo 2020 fino ad Arezzo Cistà. Sarà dunque noto medico aretino e capogruppo consigliare dei Democratici, il principale contendente alla poltrona di Alessandro Ghinelli, attuale sindaco di Arezzo e candidato del centro-destra. Luciano Ralli è pronto. Intanto ringrazio tutti i soggetti dell'Alleanza per la fiducia accordata. Ha dichiarato, in queste ore dobbiamo tutti fronteggiare assieme l'emergenza Covid-19, priorità alla salute degli erettini. Per la tradizionale campagna elettorale prosegue, attenderemo tempi migliori. Adesso è il momento della collaborazione e non della contrapposizione. Verrà poi il tempo del confronto politico. La sfida proseguirà, li servirà anche a dare vita ad un nuovo modo di fare comunità, grazie ad un'amministrazione che sappia collegare e unire in un destino comune, chiaro e ben visibile, cittadini, professionisti ed imprese. Oggi ci sono troppe persone in difficoltà per età, salute, condizioni di lavoro e di vita che non trovano ascolto o che ricevono risposte inefficaci. Ci sono associazioni e imprese che potrebbero fare un deciso balzo in avanti ma che non sono valorizzate dal comune. Arezzo, conclude Luciano Ralli, merita di più ed è arrivato il momento di offrirle di più.